Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea. La possibilità di riscoprire il valore della vita anche quando sembra che sia troppo tardi. Attraverso il protagonista arriva il messaggio che la felicità spesso risiede nelle relazioni, nella disponibilità ad aiutare chi ci circonda, e nell'aprire il proprio cuore agli altri, anche quando si è ormai abituati alla solitudine. Leggere questo libro significa immergersi nella storia di un protagonista complesso e profondamente umano, che ci invita a riflettere su quanto continuo i piccoli gesti di apertura e affetto, e su come la vita possa riservare sorprese e nuove possibilità fino alla fine, a patto che si abbia il coraggio di afferrarle. La trama del libro La vita a volte capita dello scrittore Lorenzo Marone, pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli, è la seguente. Brontolone, cinico, pigro, bugiardo, è così che si potrebbe descrivere Cesare Annunziata. Come quella volta in cui, per attaccare Bottone con la sua futura moglie, si era inventato di possedere una collezione di scatolette di fiammiferi per poi essere costretto per oltre 50 anni a collezionarle davvero. Ormai vedovo e ottantenne, con mille acciacchi e le giornate vuote, Cesare si trova ad affrontare un agosto in città. Nel condominio al Vomero sono rimasti in pochi, c'è la dirimpettaia gattara, ossessionata dalla telecamera al pian terreno. L'amico di una vita con cui Cesare gioca la stessa partita di scacchi da anni. E Lady Blonde, un adolescente che non si stacca mai dal cellulare. E soprattutto ci sono i ricordi, ricordi subdoli che si insinuano dappertutto. Proprio lui che si è sempre dichiarato immune ai sensi di colpa, ora si trova a fare i conti con mille domande. E se nella vita fosse stato più risoluto, dolce e accogliente? Se avesse trovato il coraggio di lasciare la moglie? Se avesse passato più tempo con i figli? Se, in definitiva, avesse sbagliato tutto? Finché un giorno, nel parco in cui è solito portare Batman, il cane affidatogli dalla figlia, Cesare nota una ragazza dai capelli corti spruzzati di viola. Si chiama Iris e ha negli occhi qualcosa di fragile e familiare. È l'inizio di una goffa ma tenera amicizia, in cui Cesare trova inaspettatamente conforto. D'un tratto, ci sono persone di cui deve, e vuole, occuparsi, e questo lo fa sentire felice. D'un tratto, non c'è più da rimuginare, ma da agire, da aiutare. Perché la vita a volte capita quando meno te lo aspetti, e bisogna trovare il coraggio di afferrarla al volo. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.